Impazza il Totonomia Teramo, la mossa sorpresa della società di due giorni fa di togliere la prima squadra CTO di Mascio e riportarlo a solo responsabile del settore giovanile lascia al momento un posto vacante non di poco conto e quando siamo a pochi giorni dalla data del raduno, sabato 22 agosto, con il Teramo che non ha l'allenatore. Situazione ancora più anomala se si considera che c'era ed era appunto di Mascio, salvo poi sollevarlo dall'incarico senza avere già il nome del sostituto. Probabile che nella scelta abbia giocato un ruolo anche la risoluzione del contratto decisamente oneroso con Bruno Tedino, che due giorni fa ha firmato con la Virtus Centella in Serie B. Della ricerca del nuovo tecnico si sta occupando il DS Sandro Federico, a ulteriore conferma di come la società del presidente Franco Iachini abbia intenzione di prolungare almeno un altro anno il contratto con lo stesso Federico in scadenza a fine mese. Il nuovo tecnico sarà comunque un profilo giovane, emergente, con poca se non nessuna esperienza in Serie C. Identikit, che potrebbe corrispondere a quello di Francesco Turrini, ex esterno di Napoli e Piacenza in Serie A, e che ha appena concluso il suo mandato da allenatore della primavera del Sassuolo, potrebbe cogliere l'opportunità di guidare una prima squadra di terza serie. Contatti vi sono stati con Gianluca Colavitto, abruzzese d'adozione che, subentrato a Battistini lo scorso anno, ha portato il materica alla rimonta e sorpasso sul notaresco, con tanto di prima storica promozione incide in marchigiani dopo il lockdown. La società del presidente Canil però è intenzionata a puntare forte sullo stesso Colavitto, destinato dunque a restare a Matelica. Altri profili ad hoc sono quelli di Paolo Rachini, Pierluigi Iervese, Massimo Paci e Mirko Cudini. Il primo ha allenato in Serie D il Francavilla e, per una parte del girone d'andata dello scorso campionato, il Pineto, prima di essere avvicendato da Amaulo. Ed ora è svincolato. Stessa cosa Massimo Paci, reduce da due campionati di Serie D, con Monte Giorgio prima e Forlì poi. Più difficile è la situazione degli altri due. Iervese è legato al Pescara, dove ha preso il posto di Legro Taglia, la guida della primavera biancazzurra. Cudini ha già iniziato la preparazione col Campobasso, che lo ha confermato. Intanto per domani mattina è stata fissata una conferenza stampa del presidente Franco Iachini. Appuntamento che potrebbe fugare alcuni dubbi circa la guida tecnica e nel quale si potrebbe capire quelli che saranno gli obiettivi stagionali. Cosa aspettarsi dalle evoluzioni di quei contenziosi per il pagamento degli stipendi dei mesi in lockdown e se il Teramo cercherà di piazzare ancora quei calciatori con i contratti più onerosi.